Sono Daniela Rondine, siamo qua alla Galleria Fondazione Mudima, dove mostriamo questa collezione, questo evento che si chiama 500% femminile. Questo evento nasce proprio in collaborazione con l'Atelier Castagna, dove abbiamo voluto ricreare praticamente un'auto su misura, così come si fa con un abito sartoriale. Ho vestito un'auto nell'interno, l'esterno fa parte dell'Atelier Castagna, invece l'interno è stato rivisitato e pensato da me, nelle texture, nei colori e nelle parti importanti, come il gioiello che nasce proprio da questo gioiello che è un bracciale.